Una donna in più vice sindaco, per spazzare via l'ombra del problema rosa sulla sua giunta, per sedare la rivalità fra messuti e monosi entrambi aspiranti alla carica di vice sindaco, ma anche per acquietare gli animi dei consiglieri scontenti che avrebbero posto il veto su una possibile nomina di Paolo Cairo nell'esecutivo. A questo punto la soluzione che Paolo Perrone tenta è sempre più rosa ed esterna. Con l'ingresso di una tecnica in quota a Puglia prima di tutto si erginerebbero i mal di pancia fra i più suffragati nel PDL che, avendo avuto una performance sopra a quota 700 voti come Luce in Gusso e Fiorino Greco, non otterranno un assessorato. A completare il puzzle mancherebbe lei l'esterna insieme alla soluzione Alba Service e dunque il braccio di ferro fra Martini e Dautilia. I nomi che circolano sono quelli di Carmen Tessitore del Forum Famiglia, Gabriella De Giorgi, docente di diritto amministrativo all'Università del Salento e anche Paola Ciannamea, ex commissario dell'Asle di Lecce. Tutte donne, tutte tecniche, tutte papabili, tutte contattate nei giorni scorsi per sondare la disponibilità ad un'eventuale carica politica. In Polo ci sarebbero la Ciannamea e la Tessitore, anche se è quest'ultima. Per il passato trascorso nel gruppo vicino a Erio Congedo, potrebbe creare il problema di un doppio assessorato ai mantovaniani. Tuttavia i ben informati assicurano che la Tessitore da anni non è più vicina alla corrente dell'ex sottosegretario, ma che si sia avvicinata all'ex ministro. Un altro nodo da sogliere è quello della partecipata della provincia di Lecce, Alba Service. La soluzione che il gruppo in provincia auspica è che la casella ritorni a Palazzo dei Celestini. Dall'altra parte, invece, Perrone vorrebbe che Dautilia terminasse il mandato per poi rimescolare le carte. In modo tale, che a rioccupare la poltrona del settore urbanistica sia l'uscente Severo Martini. Ultimi ritocchi prima dell'ufficializzazione della giunta di Perrone, che a questo punto potrebbe avvenire lunedì.